ciao amici benvenuti bene oggi vi parlo della raccolta punti di uniclub come sapete questa raccolta punti che viene realizzata e promossa dalle farmacie di ogni città quindi c'è una raccolta punti questo è il catalogo e quindi acquistando nelle farmacie tutti i prodotti che ovviamente copiosi troverete in farmacia avrete poi a fine anno accumulato tutta una serie di punti in base a quello che avete comprato e quindi potete ottenere tantissimi premi anche di un certo tipo certo io ero un po scettico riguardo questa raccolta punti ma devo dire sul catalogo specifico c'è un'infinità di premi certo bisogna raggiungere migliaia e migliaia di punti per poter godere di qualche premio più simpatico e vi faccio vedere quelli che invece ho appena ritirato dopo almeno un anno di raccolta punti come vedete ci sono zainetti trekking per il campeggio macchine fotografiche pentole e tutto quanto però devo dire che in effetti in molti casi bisogna raggiungere migliaia e migliaia di punti come per esempio il fumatore con bottiglia per averlo bisogna raggiungere 3200 punti o ancora 1600 punti più 16 euro e secondo me non vale assolutamente la pena di aggiungere dei soldi e poi valutare in base ai punti raccolti a quali premi sia beneficio bene ecco tutti i premi che il vostro minuo ha ritirato ne ho ritirati ben tre avevo circa 7.000 punti guardate che bel pappone gigante iniziamo dal dei punti dei premi più piccolini ma iniziamo da questa busta vediamo che cosa ha preso il vostro menu a o coltellino abbiamo la busta eccola qui un po ha un altro pacchetto ancora vediamo un po cosa sarà che abbia facilmente da qui ok vediamo un po vediamo un po che bella questa era il è una cuffia philips wireless con microfono molto molto carina come cuffia vedete e comunque del marchio philips una garanzia ok questa è stata presa vi dico subito con quanti punti l'abbiamo presa questa cuffia senza aggiungere ovviamente alcuna forma di denaro di pagamento come più preferite ed ecco la fila con le cuffie bluetooth con microfono c'è una visione di 2600 punti o ancora 1300 punti più 13 euro aggiunti questo il primo regalo andiamo a vedere il secondo regalo come vedete tutto contraddistinto da uniclub per dire che insomma i prodotti sono quelli coltellino altro unboxing vediamo un po cosa va preso il vostro manual ovviamente non sono gli acquisti che ho fatto da solo perché grazie a dio non ho bisogno di farmaci però sono l'accumulo di tutti i punti che una famiglia può perseguire raggiungere ecco come avete intuito facilmente una bella pentola ben sì le contole ce ne abbiamo sempre bisogno in questo caso la pentola è del marchio ballarini come c'è scritto e vediamo un po che tipo di pentola sembra di ottima qualità di ottima fattura anche questa fatta molto bene made in italy come pentola ovviamente antiaderente e beh un pentolino così come sapete per cucinarmi le mie fantastiche uova sarà l'ideale bene quindi questo regalo anche l'abbiamo visto vi dico per ottenere la pentola erano necessari meno punti tutto il resto in generale è infatti ottenuto una padella da 24 centimetri come in questo caso è stata ottenuta con mille e 200 punti non è di 24 centimetri che lo scusa è di 20 centimetri e infine andiamo all'ultimo regalo e ve lo faccio vedere subito voglio prima trovare sul catalogo avrei voluto anche magari uno zainetto per il trekking però se ne trovano tanti a prezzi più bassi allora adesso il regalo più grande quello più costoso tra virgolette di tutti quello che richiedeva il maggior numero di punti per essere acquistato se lo trovo sul catalogo quando si cerca qualcosa o non la si trova mai e vediamo un po di tua c'erano lavatrici frigoriferi però mamma mia quanti punti di vita poi eccola qui abbiamo preso la bilancia pesa persone la di marchio bear 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 mai sentito comunque ci volevano 1900 punti bilancia pesa persona in vetro la vediamo subito amici di manua guardate che bel pacchettone gigante c'è qui unboxing coltellino abbiamo tutto qui e sì c'è tanta belle packaging perché ovviamente serve una bilancia in vetro mamma mia mai vista sta roba per proteggere eccola qui la nostra bilancia che devo dire pacchettata stra bene stra bene ok possiamo togliere tutto questo pazzesco packaging mai visto allora belle rule well being una bella bilancia che misura da 100 grammi fino a 180 kg beh sembra proprio un anche questo un bel prodottino bene amici di menuao vediamo un po apriamola dai diamo ben amici di menuao in ogni caso vi dicevo questi prodotti che si acquistano che si ottengono tramite una raccolta punti di unica tramite le farmacie e negozi convenzionati sembrano veramente dei prodotti bene questa è la bilancia pesa persona devo dire leggera molto essenziale e dalla devo dire dal design davvero interessante perché come vedete tutta trasparente e i sensori per la misura del peso sono solo da questo lato bene amici di menuao memento a vedere sempre e a presto su menuao ciao grazie a tutti